Albert Camus, 1913-1960, scrittore francese, normalmente non considerato un filosofo per il fatto che il suo pensiero non è espresso in maniera sistematica e non è espresso attraverso la terminologia e la metodologia della saggistica, ma in altre forme espressive e con altri linguaggi, ma ciò non di meno, come cercherò di mostrare in questo breve intervento, considerabile a tutti gli effetti un filosofo, esattamente come peraltro è il caso di Pasolini, e non solo ma un pensatore che ha introdotto nel dibattito culturale internazionale un argomento, molteplici ovviamente, ma in questo caso vorrei soffermarmi su uno in particolare, che è ancora di grandissima attualità. Innanzitutto vorrei ricordare che da un punto di vista editoriale, recentemente si sono moltiplicate le pubblicazioni su Camus, soprattutto in occasione del centesimo della nascita, e fra le molte ne vorrei ricordare almeno una, che è questa, ovvero il numero 6 2013 di Micromega, edizione cartacea ovviamente, un numero dedicato completamente ad Albert Camus, intitolato L'intellettuale e l'impegno, nel quale troviamo interventi di Flores d'Arcaes, Camilleri, Dario Fo, Furo Colombo, Salvatore Settis, Freccero, Vattimo Celestino, Di Freddi, Ovadia e così via, e soprattutto, mi permetto di dire, troviamo 40 pagine di inediti camusiani, inediti in lingua italiana ovviamente, relativi a articoli, recensioni e anche ad una breve pièce teatrale intitolata L'improvvisazione dei filosofi e dedicata sarcasticamente a Sartre. Dicevo, considerabile, a mio modesto parere, un filosofo, e un filosofo che ha detto qualcosa di ancora estremamente attuale. Innanzitutto su Camus, per introdurre l'argomento e arrivare al punto che a me interessa in questa sede sottolineare, la prima cosa che va ricordata è che è convenzionalmente, giustamente direi, ricordato come il padre di quella che possiamo definire identità mediterranea, perché tutto il suo pensiero ruota attorno appunto a questa categoria che è il pensiero meridiano, il pensiero mediterraneo, ovvero un certo tipo di modo di intendere la natura, sappiamo che il modo in cui la intendeva Camus era, per suo stesso dire, il modo che si rifaceva all'antica Grecia, quindi la natura intesa come un cosmos generale, generico, nei confronti del quale provare amore, e è molto interessante la tematizzazione estremamente nota, che quindi qui accenderò soltanto per introdurre poi l'altro discorso, la tematizzazione che fa Camus a proposito del fatto che questa unione armoniosa dell'uomo con il creato viene per la prima volta messa in crisi e rotta dalla tradizione giudaico-cristiana che drammatizza la relazione uomo-natura, che non è più quindi una relazione armonica, ma una relazione drammatica, la drammatizza perché nei termini della tradizione giudaico-cristiana lo spirito può migliorare, può emergere, può sorgere, può purificarsi soltanto se la vita è una vita di sofferenze, perché le sofferenze purificano appunto lo spirito stesso. Tuttavia, procedo sempre per una schematizzazione per sommi capi, Camus ci ricorda anche come il pensiero cristiano per collocarsi all'interno della preesistente tradizione ellenica è stato costretto in qualche misura, inizialmente, ad ellenizzarsi. Ad esempio, Camus stesso scrive nel Ribelle, perdone, nell'uomo in rivolta, The Rebel ovviamente è la traduzione inglese, l'uomo rivolté è l'originale francese, scrive, traduco io personalmente, la cristianità fu obbligata, al fine di penetrare nel mondo mediterraneo, ad ellenizzare se stessa, il che ha causato il fatto che la sua dottrina sia diventata simultaneamente più flessibile. Nel suo concetto di meditazione la cristianità è greca, nella sua idea di storia la cristianità è giudaica e verrà trovata ancora nella ideologia tedesca, l'ideologia tedesca che è un certo modo di concepire la vita e il mondo e che Camus, come è noto, mette in netta, aperta contrapposizione con invece il pensiero mediterraneo che è quell'altro tipo di pensiero che si trova in paesi quali la Francia, la Spagna e l'Italia. Ora, perché ho preso questa citazione per introdurre il discorso? Perché qui sono contenuti entrambi i termini ai quali Camus si riferisce, cioè quelli della ideologia tedesca e quindi di un rapporto non pacifico con la natura, e quelli invece di una relazione armoniosa con la natura. Perché quando Camus scrive nel suo concetto di meditazione la cristianità è greca, sta parlando della eredità ellenica che si trovava all'interno della cristianità, cioè di quella parte di mondo ellenico che la cristianità è stata costretta ad accettare per introdursi ed inserirsi all'interno del mondo preesistente, e quando invece Camus scrive nella sua idea di storia, storia, la cristianità è giudaica e verrà trovata ancora nella ideologia tedesca, sta annunciando questo avvento di un rapporto non più pacifico e pacificato con la natura. Si trovano tracce di questo rapporto ancora armonioso e pacifico, e quindi tracce di ellenizzazione dentro la cristianità, in Camus ad esempio, soprattutto in San Francesco, nel Cantico di tutte le creature, o quella che poi verrà definita essere l'eresia degli albigesi e che verrà soppressa dall'inquisizione. Consiste, come dicevo, questa tradizione ellenistica che rimane sotto forma di qualche traccia all'interno della cristianità in una relazione armoniosa con la natura improntata alla categoria della moderazione, alla categoria della moderazione, mentre quello che poi emergerà sotto forma di, come la chiama Camus, ideologia tedesca, e che, ripeto, secondo Camus è stata introdotta in forma germinale nel mondo occidentale dalla tradizione giudaico-cristiana, quello che poi emergerà invece, dicevo, è un rapporto drammatico, cioè non pacifico, con la natura, ovvero un rapporto di dominazione nei confronti della natura. Un rapporto di dominazione. E non a caso Camus dice che questo rapporto con la natura improntato alla dominazione dalla stessa è stato condotto in Europa prevalentemente dalle popolazioni del nord Europa. Perché questo? Non è affatto un caso. Perché questo? Perché, ovviamente, le popolazioni del nord Europa si trovavano all'interno di un ambiente naturale che presentava molte grandi ostilità che dovevano in qualche modo essere sedate, che dovevano in qualche modo essere controllate, e quindi per rispondere alle problematiche semplicemente di sopravvivenza all'interno di un ambiente naturale ostile, ovviamente l'ambiente naturale stesso, la natura, viene vissuta all'insegna del dominio della stessa. Si trovano, ad esempio, grandi tracce di questo in Hegel, perché Hegel, nella sua Fenomenologia dello Spirito, ci parla di come e quanto il Mediterraneo è stato importante in una certa fase dell'evoluzione dello spirito stesso. Il Mediterraneo, in cui invece Camus vede la possibilità di un rapporto pacifico con la natura perché è un ambiente che non presenta ostilità che necessitano un dominio sulla natura stessa. Ma in Hegel, nella Fenomenologia dello Spirito di Hegel, l'importanza del Mediterraneo è soltanto una fase di transizione perché a questa fase segue invece l'ingresso all'interno di quello, ora non è questo l'argomento in questione, ma l'ingresso all'interno di quello che è lo spirito assoluto, lo stato etico, insomma, l'irruzione della storia nella natura. L'irruzione della storia nella natura. Questa è proprio la mancanza di moderazione per Camus, la sottomissione della natura alla storia. Ora, io trovo estremamente interessante notare come per Camus la moderazione, che invece è presente all'interno dell'ambiente mediterraneo, quindi del tipo di rapporto pacifico e armonioso con la natura, la moderazione non è un generico pacifismo o una generica contemplazione del creato, ma la moderazione è sempre alleata dello spirito rivoluzionario, ci dice Camus. La moderazione è sempre alleata dello spirito rivoluzionario. Questo è estremamente importante perché, innanzitutto, per restituire il discorso camusiano nei suoi termini autentici e non farne una sorta di, tra virgolette, figlio dei fiori, contemplatore del creato. Non è certo questa la moderazione in Camus. Ma soprattutto perché questo dà anche conto della sua querelle con Sartre. Perché se la moderazione è sempre alleata dello spirito rivoluzionario, la rivoluzione, però, nei termini in cui è stata pensata dalla cultura umanistica nella seconda metà del Novecento, che sono termini estremamente vicini al totalitarismo staliniano, questo tipo di rivoluzione, invece, è sempre nemica del cambiamento sociale. Quindi la moderazione è sempre alleata dello spirito rivoluzionario. Ma una rivoluzione che si esplica sia a livello concreto che a livello intellettuale nei termini del totalitarismo staliniano è invece, al contrario, nemica di qualsiasi tipo di cambiamento. Per questo Camus si allontana da Sartre quando Sartre, invece, sostiene l'ex Urs. E, inoltre, è estremamente interessante anche notare che per questo Camus per questo Camus dà la sua firma contro la condanna a morte del collaborazionista della Repubblica di Vichy, Brasiliac, che viene in tutti i casi condannato a morte, ma Camus, nonostante questo, dà la sua firma per cercare di evitare l'esecuzione. A proposito dei collaborazionisti, poi, è qui opportuno aprire una ricchissima parentesi riguardo quello che Camus scrive a proposito di Poucheau, un altro collaborazionista della Repubblica di Vichy. Mi riferisco all'articolo di Camus intitolato Non tutto si sistema e pubblicato nel 1944 sulla rivista Lettere Francesi. Poucheau, collaborazionista di Vichy, dicevo, Anche egli poi verrà condannato a morte Ma quello che Camus, nel 1944, ripeto, nel 1944, imputa a Poucheau non è l'essere stato alleato del male o male egli stesso in prima persona Ma il problema che risiede in Poucheau è, come Camus stesso lo definisce, una mancanza di immaginazione Mancanza di immaginazione O potremmo dire anche, nei termini camusiani, una mancanza di midi, cioè una mancanza di pensiero creativo Una mancanza di pensiero creativo che consentisse a Poucheau di comprendere le circostanze all'interno delle quali si trovava Perché, dicevo, è estremamente interessante sottolineare che tutto questo avviene nel 1944 Perché c'è un altro testo fondamentale nella storia culturale europea che tratta questo argomento E che è Eichmann in Jerusalem, la banalità del male di Anne Arendt E che verrà pubblicato soltanto nel 1963 E qui Poucheau, nel 1944, anticipa le tesi che si troveranno poi nel 1963 nel libro che Anne Arendt dedica ad Eichmann laddove Arendt imputa ad Eichmann non il fatto di essere la personificazione del male ma il problema di Eichmann è stato quello di come Eichmann stesso peraltro diceva, parlando di se stesso di attuare una cadaver georsam cioè obbedienza da cadavere obbedire al Führer come un cadavere ovvero senza riflettere sulle sue azioni e sulla conseguenza delle stesse e che cos'è la cadaver georsam se non la mancanza di immaginazione che circa 20 anni prima già Camus attribuisce a Poucheau quindi è estremamente interessante notare questa similitudine dicevo, tornando al discorso centrale di Camus in Camus quindi si possono riconoscere due polarità due polarità che possiamo definire l'una con il termine di Abendland e l'altra con il termine di Midi la dimensione dell'Abenland è la dimensione dell'indurimento dello spirito dell'indurimento dello spirito mentre la dimensione del Midi è la dimensione è la dimensione della capacità di riconoscere la bellezza capacità di riconoscere la bellezza ma attenzione la capacità di riconoscere la bellezza non è un mito letterario non è un divertisman non è qualcosa che serve per leggere qualche paginetta piacevole e poi tornare alla vita vera che è quella che conta non è assolutamente così la capacità di riconoscere la bellezza è legata ad una questione di antropologia di antropologia e qui peraltro c'è un altro importantissimo parallelismo che abbiamo da istituire questa volta tra Camus e Pasolini in particolare la concezione pasoliniana di mutazione antropologica dicevo è una questione di antropologia perché persone che non sono in grado di riconoscere la bellezza sono persone antropologicamente diverse rispetto a coloro che sono ancora in grado di riconoscerla quindi la capacità di riconoscere la bellezza non è un mito letterario non è un'utopia è una questione di antropologia è una questione di antropologia ne va della natura dell'essere umano ne va della natura dell'essere umano e qui veniamo all'attualità per concludere come dicevo all'inizio qui veniamo all'attualità di questo pensiero quello che dice Camus non è il sostituire la dimensione dell'Abenland che oggi è indubbiamente la dimensione prevalente la dimensione che ha trionfato con la dimensione del midi Camus non parla di una sostituzione non dobbiamo semplicemente invertire questo rapporto di forza che si è venuto a creare cioè fare in modo che non sia più l'Abenland a dominare ma fare in modo che sia il midi a dominare non è assolutamente questo non è assolutamente una questione di dominazione è una questione di integrazione cioè la dimensione del midi ovvero la capacità di riconoscere la bellezza deve essere integrata all'interno della dimensione dell'Abenland perché entrambe le dimensioni contengono qualcosa che è necessario alla vita e quindi nessuna delle due può fare a meno dell'altra come avviene invece oggi dove la dimensione dell'Abenland cioè dell'ispessimento dello spirito è quella prevalente Camus parla di integrazione non di invertire questo rapporto di dominazione ma di integrazione fra queste due dimensioni in questo risiede a mio parere la sua enorme attualità perché noi oggi viviamo in circostanze nelle quali la nostra vita è dettata da principi di tipo economico e ancor di più da principi di tipo tecnologico economico e tecnologico che peraltro forse non a caso emanano se volessimo trovare una localizzazione in Europa emanano in maniera particolare dalla Germania e ora se vogliamo trovare un'attualizzazione di Camus il compito che abbiamo di fronte quindi non è quello di protestare nei confronti della economicizzazione della vita e della tecnologizzazione della vita in luogo di un completo abbandono delle categorie dell'economia e delle categorie della tecnologia e dell'economia in sé e della tecnologia in sé non si tratta di abbandono non si tratta di sottomettere queste categorie a qualcos'altro che sarebbe il dominante si tratta di inserire all'interno di queste categorie la capacità di riconoscere la bellezza e quindi e quindi di riorientare non cancellare ma riorientare riorientare l'economia e la tecnologia e qui a mio parere c'è un'ulteriore terza analogia di Camus con un altro importante autore del secolo scorso analogie che ovviamente ognuna di queste merita di essere approfondita in questo caso mi riferisco ad Herbert Marcuse il quale ha sempre parlato non di un abbandono del sistema tecnologico all'interno del quale ci troviamo come se lo scopo dovesse essere quello di trovare di tornare a stadi di civilizzazione pre-tecnologici non è assolutamente questo il discorso di Marcuse che ne farebbe un reazionario conservatore non è affatto così ma il punto è per Marcuse riorientare l'apparato tecnologico riorientare l'apparato tecnologico e questo riorientamento in termini camusiani con tutte le specifiche differenze ovviamente ma lo troviamo esposto nell'idea di introdurre all'interno della dimensione dell'Abenland che oggigiorno è fondamentalmente quella dell'economia e quella della tecnologia la capacità di riconoscere la bellezza che ripeto è una questione di antropologia tutt'altro che un mito letterario una questione di antropologia per questo chiudendo con le stesse parole di Camus con mia libera traduzione leggerei queste due righe tratte sempre dall'uomo in rivolta naturalmente non si tratta di disprezzare qualcosa o di esaltare una civilizzazione alle spese di un'altra ma semplicemente di dire che questo cioè il pensiero dell'amidi che questo è un processo del pensiero del quale il mondo oggi non può fare a meno per ancora molto tempo di un'altra di un'altra di un'altra Grazie a tutti.